Buongiorno Popolo Rosso Nero, buongiorno Popolo del Bandito, buon venerdì 5 di aprile. Oggi iniziamo con un po' di rassegna stampa per vedere di cosa si occupano principalmente i giornali, anche se di noi si occupano poco. Vediamo quindi qualche notizia che è emersa nella serata di ieri e che potrebbe essere interessante così per quanto riguarda noi e il nostro Milan. Prima vi ricordo di like al video se vi va, di iscrivervi al canale, più siamo meglio è, quindi se vi va iscrivetevi, campanella per le notifiche, per ricevere i video. Allora partiamo con tutto sport oggi, perché il giornale rosa voglio lasciarlo per ultimo, perché oggi ci dà un'altra perla, la vediamo in fondo, la vediamo alla fine. Tutto sport. Un po' ci riguarda questa notizia, per cui riguarda Buongiorno, il difensore del Torino, il Toro tifa Premier, la valutazione di 40 milioni, frena le milanesi. Quindi ovviamente noi non saremo su Buongiorno, perché dobbiamo prendere vero tra i giocatori, ma non è che li possiamo prendere tutti dai 40 milioni in su. Quindi siccome penso che questa sarà una cifra che verrà utilizzata probabilmente per la punta, quella di 40 milioni o su per giù, altra buona parte verrà utilizzata per il centrocampista, sicuramente non ci saranno i 40 milioni per Buongiorno, almeno che non si prenda in considerazione l'ipotesi di vendere un big. Sinceramente io con Tomori, Valulu, Ciao, Gabbia, di cedere un big per prendere Buongiorno per 40 milioni, direi anche no. Direi anche no. Quindi non penso che... Più facile che magari l'altra squadra milanese, visto i buoni rapporti che ha con Cairo, che ricordiamo è l'editore del giornale Rosa, fornitore ufficiale, quindi i rapporti sono molto consolidati, non mi meraviglierei se alla fine, essendo anche il procuratore di Buongiorno, il signor Riso, che abbiamo ormai imparato a capire, a conoscere, essere ombra di Marotta, dopo essere lo stato di Galliani, lui nasce, nasce, anzi è Galliani che lo crea, praticamente lo modella, lo crea, e avendo sempre bisogno di un uomo forte che lo instradi, una volta Galliani è andato via dal Milan, si è totalmente affidato a Marotta. Quindi queste due cose, diciamo, i rapporti con Cairo e il procuratore Riso mi fanno pensare che più probabilmente potrebbe esserci un'altra valutazione creativa, non a caso ieri è uscita quella notizia, vi ricordate nel video di ieri, di questa valutazione di questo giovane del Monza, Carboni per 40 milioni, l'abbiamo commentata, ne ho parlato nel video, quindi una valutazione mostra di qualche giovane, magari un prestito con obbligo, con Pagherò a Babbo Morto, ed ecco che l'operazione Buongiorno si potrebbe prefigurare come una specie di operazione frattesi. Queste sono operazioni che noi non possiamo fare in Italia, non abbiamo i rapporti per poterle fare, non abbiamo i rapporti che ha l'Inter con Cairo, o che ha Marotta con Carnevali, o che ha Riso con Marotta, quindi queste operazioni sono preclusi a noi, per cui ci rivolgeremo come al solito all'estero, per se dovremmo prendere un difensore. Juve, Retegui e Contatto, tra l'altro dicono anche, leggevo anche da qualche altra parte, che è stato offerto anche a Mila, Retegui, dal suo procuratore, perché la situazione anche lì finanziaria a Genoa non è che sia chiarissima, anche lì ci sono delle cose in divenire che ovviamente mi spiace per il Genoa, ma non essendo sotto l'ala protettiva della Federazione Italiana Gioco Calcio, come la prescrittese cartonese, se dovesse emergere una situazione difficile per il Genoa, scatterebbe il fuggi-fuggi. Per cui questo fatto che Retegui sia stato offerto alla Juve, sicuramente da quello che dice Tutto Sport, ma anche al Milan, sembra, mi lascia presagire un fuggi-fuggi da Genova. Contatto con il Genoa, quindi, cioè scutato per il bombe del Genoa e della nazionale che potrebbe affiancare l'Aulic, vedremo. Comunque da tenere sott'occhio la situazione economica e proprietà anche del Genoa. Ultimi passaggi per definire, questo è quello che riguarda noi, diciamo, al nostro Milan, per definire al 100% il progetto seconda squadra che dovrebbe avere come allenatore Daniele Boniera. Sarebbe una cosa importante, sarebbe un tassello importante, sarebbe un progetto importante, sia economico come investimento, ma come anche rientro poi di questo investimento, perché noi dobbiamo pensare che in quest'Under 23, oltre chiaramente a degli acquisti che saranno fatti, potrebbero giocare i nostri giovani più forti, quindi Camarda, poi ne parliamo di Camarda, Sia, che ha appena rinnovato, Zeroli, i Menez, i Simic, insomma giocatori che sono lì pronti a fare il salto di qualità, che magari hanno bisogno ancora proprio di una stagione, o anche meno, in un campionato molto più allenante che il campionato primavera, e anziché farlo in squadre che li utilizzerebbero magari poco, perché comunque non giocatori di loro proprietà, ecco che invece farlo in un Under 23, che fa un campionato allenante, dove la competizione è forte, questi ragazzi crescerebbero bene, potrebbero essere ottimi giocatori da inserire nel Milan del futuro, oppure acquisire valore per poterli piazzare e magari recuperare risorse da mettere sul mercato, quindi una cosa molto positiva, speriamo che almeno questo passaggio di crescita non venga a questo passaggio di crescita non vengano messi il bastone tra le ruote, come per altri passaggi della nostra crescita che stiamo ovviamente vedendo e sapete a cosa mi riferisco. Poi è uscita una notizia di tutta da verificare, di questo nuovo direttore sportivo che arriverebbe dal Tolosa, vediamo se oggi Comolli si chiama, ha un'esperienza trentennale, è stato lì nel Pura Fenerbace, insomma vedremo, vedremo se è una voce che è destinata a cadere o se avrà degli sviluppi. Una curiosità sull'arbitro perché ad arbitrare Mila a Lecce di domani, oggi vi ricordo conferenza stampa del Ministero, quindi tutta da ascoltare, poi dopo la commenteremo insieme, l'arbitro di sabato sarà Luca Massimi, non mi diceva niente il nome, non ricordo, mi sembra non abbia nessuna precedente con Mila, ma addirittura è un arbitro che arriva da una sospensione di 118 giorni, quindi da esattamente dal 10 dicembre del 2023, dopo un frosinone Torino finito 0-0, deve averne combinate di ogni perché è stato sospeso per tutto questo periodo. Ora, che è un arbitro che è stato sospeso per tanto tempo rientri e venga affidato al Milan, mi lascia pensare, ma lo vedremo alla prova dei fatti sabato, vedremo se si inventerà qualcosa di strano il signor Luca Massimi che conosceremo sabato in quel di San Siro domani, non vedo l'ora. Corriere dallo sporca per gli effluenti ballando sotto le stelle, libera e bella. così si muove il Paris Saint-Germain ovvio il Paris Saint-Germain deve sostituire Mbappé meglio lo faccia con Osimè che con Leao, direi che su questo siamo tutti d'accordo, non penso che possa il Paris Saint-Germain, nemmeno lo scicco del Paris Saint-Germain pagare la clausura e scissoria sia di Osimè che di Leao ne deduco che benvenga Osimè al Paris Saint-Germain e noi ci teniamo il nostro Raffaellino. Domani ore 18 Roma-Lazio il derby finale per Di Bala, Lukaku, Ciro, Felipe e Luis Alberto può essere l'ultimo quindi Capelli Fluenti fa l'elenco di chi probabilmente giocherà l'ultimo derby speriamo che sia una partita molto intensa molto combattuta combattutissima bella animata come solo i derby di Roma sanno essere belli insomma dico picchiatevi però insomma bella agonistica mente forte la partita la vogliamo domani anni 18 mi raccomando mettetecela tutta belli forti immaginiamo tutti insieme di capire il perché di questa voglia di animosità diciamo vedremo sarà comunque sempre bello vedere il derby il derby di Roma perché è veramente sempre molto combattuto Juve lo stadio è con Allegri anche lì diciamo si è creata un po' questa fazione chi ha lo stadio sostiene a prescindere mentre invece i social sono un Allegri auto continuo diciamo e arriviamo al pezzo forte al giornale rosa fornittore ufficiale della prescrittese cartonese allora io non so come interpretarlo questo articolo perché potrebbe essere una balla una delle solite balle che raccontano potrebbe essere che OCTRIE pur di non avere nulla a che fare con loro perché di prendere in mano una società con un miliardo di debiti penso che non sia per nessuno una cosa simpatica e agevole soprattutto se non te ne può fregare di meno quindi magari riuscirà misteriosamente non si sa come il desaparecido zang ad avere questo riscadenziamento del prestito ovviamente con interessi più alti però quale che sia l'ipotesi quello che stride è il tono trionfalistico è il tono e ve lo leggo così via libera di zang e qui la mia prima obiezione in che senso come sapete che c'è stata un via libera di zang come lo sapete ha fatto un video vi ha fatto una chiamata potete testimoniare su lo stato di zang se è libero se è sano se è in salute o è venuto a milano in incognita avete avuto un contatto insomma fateci sapere da dove arriva questo via libera oppure ve l'ha detto semplicemente Marotta voi vi fidate mano sul fuoco eh ve l'ha detto Marotta vero via libera di zang lautaro e barella rinnovano e qui c'è la prima obiezione qui c'è la prima obiezione come possono continuare a pagare 8 9 10 milioni di stipendio e come fa dare il via libera a zang che ha i creditori che lo tallonano in tribunale come possono essere conciliabili queste cose lo so lo diciamo spesso lo ripetiamo e non bisogna stancarsi di dirlo e di ripeterlo visto che poi fanno le indagini sul Milan sulla onorabilità e la solvibilità del Milan sarebbe veramente da aprire un libro ci sarebbe poi c'è il titolo cioè non finisce qui il titolo quindi Lautaro e Barella rinnovano e qui c'è da chiedersi come perché a dispetto dei creditori vi ricompro vi ricompro addirittura cioè la dichiarazione abbiamo la dichiarazione di Zanga fatto quindi una dichiarazione vi ricompro questo tono vi ricompro ma se sei nulla tenente cosa ricompri? ti sei dichiarato nulla tenente in tribunale cosa ricompri? Gazzetta dello Sport giornale rosa fornitore ufficiale si è dichiarato nulla tenente poco meno di una settimana fa il 10 aprile ci sarà un'altra udienza in tribunale dove si richiarerà un'altra volta nulla tenente cosa ricompro? accordo vicino con il fondo OCTRI così l'Inter accelera sulle firme dei due BIG e con questa notizia che trovo quantomeno assurda se non provocatoria se non irrispettosa di chi ha portato in tribunale Zanga perché non ha pagato un debito trovo questa notizia da questo vi ricompro totalmente fuori dalla realtà e con questo ci sentiamo oggi pomeriggio dopo le parole del mister per commentarle insieme perché oggi è già vigilia di Mila Lecce forza Milan forza lotta vincerai non ti lasceremo mai